Riesce a entrare in pieno giorno nell'asilo parrocchiale, approfittando dello scarico di alcune merci e a impadronirsi di 200 euro da un cassetto. Quando la direttrice si accorge dell'estraneo, inizia una discussione che attira l'attenzione di un vigile urbano in servizio tra i banchi del mercato cittadino. Alla richiesta dei documenti, il 34enne Chioggiotto, Mattia Ardizzon, prima li esibisce, poi fugge verso il suo motorino e tenta la fuga. Il vigile gli si scaglia addosso e i due finiscono a terra. Il presunto ladro allora scappa a piedi rovesciando varia merce tra le bancarelle del mercato, ma arrivano rapidamente i carabinieri della stazione di Legnaro, i quali, grazie anche all'aiuto di alcuni cittadini, arrestano l'uomo per furto aggravato, lesioni personali e resistenza pubblico ufficiale. Per il vigile urbano, che ne ha ostacolato la fuga, tre giorni di prognosi.